Ora, completiamo oggi gli argomenti che riguardano la motore a combustione, facendo gli ultimi argomenti, va bene, l'ultima volta abbiamo visto lo scarico e la sovralimentazione, l'abbiamo un po' accennato da un punto di vista anche concettuale ed è quello più o meno che mi interessa sapere, lo scopo e a cosa servono e come funziona, come abbiamo detto l'altra volta la sovralimentazione ha il compito di sovralimentare la parte volumetrica del gas, quindi cercare di fare entrare all'interno del cilindro più gas possibile, creando un'estra pressione all'aspirazione che permette l'aumento del riempimento all'interno del cilindro. Successivamente abbiamo spiegato che la sovralimentazione può avere due obiettivi, l'obiettivo di aumentare le prestazioni al numero basso di giri, per questo motivo la turbina deve essere più piccola perché chiaramente lo stesso albero della turbina deve essere messo in movimento, più grosso è, più pressione ci vuole, più massa di gas ci vuole, quindi per creare più massa di gas ci vuole il numero di giri più elevato. Questo comporta che un motore per raggiungere l'alto numero di giri ha quello si dice dei vuoti in basso, quindi sono motori solitamente che richiedono di alzare molto il numero di giri per dare il meglio di se stessi e questo potrebbe essere, capite bene, un limite grosso riguardo alle prestazioni in termini di consumi, mentre sono ovviamente privilegiate in quel caso lì le prestazioni di potenza, sono motori che hanno potenza più elevata ad alto numero di giri, però risentono di vuoti a basso numero di giri e questo era un po' il concetto del turbopressore degli anni 90. Oggi il turbopressore ha l'obiettivo di far migliorare le prestazioni soprattutto a basso numero di giri, cercando di ottimizzare, quindi di recuperare l'energia del gas di scarico per ridurre i consumi e quindi per questo motivo abbiamo turbine piccole che hanno il vantaggio appunto di fornire già da subito prestazioni migliori, quindi coppie già buone a basso numero di giri con una buona prestazione anche di potenza perché comunque la sovralimentazione migliora la coppia e quindi migliora a livello di potenza, però diciamo poi ad alto numero di giri o c'è una doppia turbina, come alcune case o strutture ci fanno, per ottimizzare i due funzionamenti oppure alternativamente sono motori che in generale non hanno alti numeri di giri ma che forniscono il meglio di sé in un range di numero di giri molto basso. Abbiamo visto che in alcuni anni l'ha necessitato un intercooler perché ovviamente il gas passando da un corpo unico che rappresenta la parte complessore di turbina è caldo e il gas è caldo ovviamente aumenta la propria densità e la parità di volume, porta meno massa e quindi meno quantità di ossidio e quindi anche la combustione risente di questo difetto di alimentazione. Siamo passati poi a vedere l'impianto di scarico, l'impianto di scarico ormai dagli anni ormai 2000 non ha solo la funzione di silenziatore come lo era già in origine ma comincia ad avere la funzione anche di un elemento per abbattere gli inquinanti. Per tale motivo è costituito nei motori benzina da due parti che è fatto appunto da l'elemento catalizzante, quindi catalizzatore e la marmitta tradizionale. La marmitta tradizionale ha i compisi appunto di fare cosa? L'effetto Venturi che sapete aumenta l'area di passaggio del gas, per l'equazione di ottimità sappiamo che A per V deve rimanere costante, quindi cosa succede? Aumentando A, quindi passando da 2 a 1, la marmitta come vedete arriva e poi aumenta di diametro, cosa succede? Aumentando A diminuisce V e riduce la velocità dei gas di scarico perché l'urto tipico del gas di scarico che esce è dovuto all'urto dell'aria con l'aria ambiente che è a temperatura che è a pressione più bassa, quindi battendoci fa quel rumore tipico. Il silenziatore appunto ha l'obiettivo di attenuare questo rumore. In alcuni mosoli, soprattutto nei mosoli di due tempi, invece si sfrutta quasi l'effetto contrario, cioè si crea un elemento quasi convergente, famoso che marmitti diciamo dei motorini truccati o delle motori truccati, lì diciamo a scape del rumore perché chiaramente si fa l'opposto, si accelera i gas, chiaro? Quindi si crea una depressione, chiaro depressione che poi viene sfruttato opportunamente collegandosi alle luci d'aspirazione per sovralimentare il motore, va bene? Proprio perché si tenda a sfruttare questa depressione per collegarla alle luci d'aspirazione e quindi creare un richiamo più rapido di aria all'interno del cilindro, va bene? Nel quattro tempi ovviamente tutto questo non ha senso perché ovviamente il tab che controlla è la valvola, se la valvola non è aperta è inutile creare questo effetto, quindi diciamo nel quattro tempi questo tipo di beneficio la marmitta non lo darà mai. Viene messa solo per motivi estetici perché molte volte il rumore ormai nei motori è caratteristico e diciamo anche affascinante in certi casi, no? Però diciamo ha solo una funzione più diciamo di sensazione emotiva e non di effettivo beneficio in termini termodinamici o di funzionamento. Tornando quindi alle marmitte diciamo di benzina, è il catalizzatore che è il compito di convertire i gas diciamo un po' più nocivi come l'HC, l'NOX e il COO in gas diciamo più puliti che sono appunto la CO2, l'N2 e l'H2O. Noi sappiamo che inoltre quando c'è diciamo un catalizzatore ci viene messo una sonda chiamata sonda lambda che ha il compito di leggere la composizione dei gas in ingresso in modo che si rileva che c'è un eccesso di solitamente l'incombusto e l'HCO vanno di pari passo. Perché? Perché la combustione diciamo dei combustibili avviene in questa maniera. Sì? È HC, NOX e CO2. Sì. Quindi trasforma. Quindi attraverso l'atalizzazione cosa fa? Ci sono diciamo delle scelle diatalizzazione, fa sì che questi gas incontrano opportunamente l'ossigeno a temperatura più elevata e quindi facilita questo processo. Cioè questa è la prima reazione che solitamente si forma. La seconda reazione è questa, almeno per quella che riguarda il CO. L'incombustibile che è l'incombustibile. Ora solitamente, questo non l'abbiamo visto nei sociali saldature l'anno scorso, però solitamente quando si produce CO, quindi si produce solo la prima reazione, siamo in carenza d'ossigeno. Quindi questo fatto dice che siamo in carenza d'ossigeno e per questo motivo ho in eccesso di combustibile, è la stessa cosa però. Questo fatto comporta che se non c'è difetti partiorari per cui nel condotto riscario c'è un'aspirazione eccessiva d'aria o diciamo difetti d'altro genere, comunque una combustione presente elevata HCI e elevati CO sta a dimostrare appunto una carenza nell'alimentazione di aria. Quindi in quel caso lì la centenella elettrona ricevendo questa informazione alla sonda lambda l'unica cosa che può fare è smagrisce la miscela, cioè riduce la quantità di miscela che entra all'interno della camera di combustibile. Chiaramente molte volte essendo come tutti i sensori, un sensore soggetto a usura o a rottura se si strara, se perde la capacità di misurare, regola male l'alimentazione, il motore ha una prestazione non ottimale. Cioè noi ci accorgiamo che la macchina non è che prende bene i giri, trombetta oppure ha un funzionamento non rosondo, proprio perché la regolazione dell'alimentazione viene fatta impropriamente da una lettura sbagliata alla sonda lambda, quindi se il sensore legge male anche la regolazione avviene in maniera sbagliata. Va bene? Avvengono all'interno del cilindro e l'ambustione. Le reazioni a ambustione soltanto avvengono contemporaneamente, se sei in abbondanza d'ossigeno, avviene immediatamente, semplicemente tutte le reazioni hanno bisogno di un tempo per avvenire, va bene? Ma se è H2,0? Chiaro? Ma se è H2,0? Sì. Però hanno tutto un tempo di reazione, è chiaro che se sei in carenza d'ossigeno la seconda stenta ad avvenire, quindi chiaramente ti trovi allo scadio ricombusto con il CO, chiaro? Ora, il CO è più dannoso ovviamente del CO2 per vari motivi, perché anche il sangue stesso si lega con la CO, proprio perché inganna l'emoglobina facendo l'olione libero negativo come l'ossigeno e quindi si andrà a catturare il CO e porto l'ossigeno e quindi si trasposta questa molecula all'interno del polmone, soltanto a un certo punto il polmone è in carenza d'ossigeno, tu hai il fenomeno a livello anche neurologico, viene a mancare l'ossigeno alle cellule, soprattutto i cerebrali, quindi ha una perdita di ossigenza inizialmente proprio con la morte, proprio per il soffoamento. L'unico problema di CO appunto è in odore e in colore, quindi non lo senti e quindi se dovessi inalare questo gas, te ne accorgi solo quando cominci a perdere sensi, però qui punto è tardi perché ti viene proprio a mancare la forza, perché viene a mancare l'ossigeno alle cellule cerebrali, quindi è molto molto pericoloso. L'HC ovviamente come tutte le atene aromate e a base di idrogeno sono atene complesse per cui se entrano nell'organismo, se vengono inalate, l'organismo non riesce a scinderle, rimangono come tali, come corpi estranei all'interno dell'organismo e quindi possono andare a rinna, tumori o quant'altro, va bene? O perché l'organismo non lo rionocce, quindi si autodistrugge. Comunque è tutta roba da eliminare, va bene? Ok, questo è per quanto riguarda lo scario motori di benzina. I motori e i diesel si aggiungono un altro elemento che è appunto il FAP. Il FAP è effetto antipartiolato, visto in maniera molto crudele, il FAP è come se fosse un retino, una rete, su cui diciamo rimangono intrappolate le particelle solide di carbonio che si formano, una polvere sottile, vero? Polvere sottile si forma dalla combustione del combustibile che a differenza del combustibile benzina è un combustibile più sporco e quindi in fase di combustione crea questo residuo solido, chiaro, che finisce per rimanere intrappolato nella rete, però diciamo che cosa succede? C'è un misuratore di depressione tra l'ingresso e l'uscita, quando misura un delta P troppo elevato vuol dire c'è il filtro intassato e quindi cosa va? Da incarico al motore di eliminare, di bruciare questa polvere sottile, cosa fa il motore per riuscire a pulire il filtro? Butta dentro nella fase di scarico, inietta proprio il gasolio nella fase di scarico, quindi i gasolio arrivano in FAP, brucia e fonde queste particelle solide riconvertendole in parte gassosa, chiaro? Chiaramente tutto questo e cosa comporta? Tutto il ciclo di rigenerazione del FAP che avviene all'interno di un motore dura un certo tempo, se voi la macchina lo usate parecchio nel circuito cittadino, questo ciclo di rigenerazione che richiede fate 8-20 minuti, voi lo fate durare 10, cosa fa? La macchina non lo termina, non ha il consenso di fine, tutte le volte rimette il motore comincia, quindi oltre ad aumentare i consumi, cosa succede? Quando niente gasolio nella fase di scarico, siccome il pistone è in una fase diciamo di spinta verso l'alto, il gasolio tende a regalare nell'olio e quindi aumenta il volume dell'olio e vi segna l'olio in eccesso nei motori, perché? Perché parte di gasolio va sotto la, va nella parte della oppa dell'olio e quindi aumenta il volume, chiaro? E quindi è stato scoperto che alla fine doveva essere un elemento che doveva ridurre l'inquiramento, alla fine buttando dentro questo gasolio di ottimo e trovandolo allo scarico comunque un eccesso di gasolio che non ha dato il beneficio di produrre energia meccanica necessaria per il movimento, alla fine il beneficio da una parte era un maleficio dall'altra. E allora oggi diciamo c'è appunto la Blu-ray famosa, Blu-ray, che ha appunto il compito di rigenerare il FAP senza ricorrere appunto a una combustione senza buttare, diciamo, iniettare i gasolio nella fase di combustione, non analizzando il ciclo termodinamico del motore stesso, va bene? Questo per quanto riguarda l'impianto di scarico. Per completare il suo ragionamento c'è da fare, l'impianto di raffreddamento, il FAP è un filtro antipartiolato, appunto è il complice di catturare, attraverso diciamo come una cattura fisica, attraverso un retino il partilato solido, la particella solida rimane intrappolata nel foro del retino che ha di dimensioni minori rispetto alla dimensione del partilato solido e quindi rimane intrappolata. Le polvere sottili? Le polvere sottili. Per quanto riguarda, diciamo, l'impianto di raffreddamento, perché abbiamo bisogno dell'impianto di raffreddamento? Abbiamo bisogno dell'impianto di raffreddamento perché come sapete il cilindro e il pistone hanno un gioco minimo, ovviamente perché se il gioco fosse maggiore la fascia non riuscirebbe a garantire di... Quindi c'è il FAP, poi c'è anche il catalizzatore che passa sotto il motore benzina. Sì, in più c'è il FAP. E prima c'è il FAP? Prima c'è il FAP. Ok, quindi il catalizzatore si deve scaldare prima del fai? Diciamo, se scalda la reazione del genere è più faiace, perché si deve, come tutti i processi di combustione o comunque di trasformazione dal combusto a prodotto di combustione è facilitata la temperatura. Più altra la temperatura, più veloce avviene il processo. Cioè, c'è delle... è una salciccia o dentro delle scelle con delle scelle di scambio, di rigenerazione. No, no, non hai vero. C'è proprio delle scelle in cui il gas viene costretto a passare all'interno delle serpentine e quindi passando le tessie serpentine allunga il tempo di permanenza, aumenta la probabilità che c'è un costo. Ma non è che uno crea, cioè crea troppa, come si dice, crea un certo tasso allo scarico. Allora, ti ho detto ora, nei motori, nei motori, quando il tetto apre la valva di scarico l'energia butta fuori il gas e ce n'è un'abbondanza. Esatto. E qui non c'è problemi di energia disponibile per scaricare, perché il gas esce e si trova a pressione maggiore rispetto alla pressione atmosferica. Quindi anche l'eventuale perdita di carico che si manifesta all'interno del condotto di scarico non crea un problema, perché il gradiente di pressione è talmente favorevole che anche l'eventuale perdita di carico e riduono il gradiente comunque non impediscono la fuoriuscita del gas. Ma quindi non è un impedimento. No, questo fattore, la contropressione allo scarico, può essere un problema di due tempi, perché quando si apre le due luci, scarico e aspirazione, se tu hai una contropressione elevata allo scarico, tu hai un tappo all'aspirazione. Ma nei motori, quattro tempi, dove tu hai comunque le valvole, il tuo problema è contenutissimo. Invece la valvola si può rigenerare per fare circolare una parte di gas? Quello lì serve semplicemente perché tu cerchi di sfruttare in un certo senso parte dei gas che non hanno ricevuto la combustione attraverso questa valvola e quindi i vapori diciamo dei gas, cerca di prendere una parte buona dello scarico che ancora non ha subito il processo di combustione per rinferire il processo di combustione. E come è fatto nel motore? C'è proprio un tubo che cattura in alto allo scarico e che cattura questi vapori che si formano e prende la parte più sana del vapore e la riporta e la rimetta all'interno del motore. Anche lì c'è un misuratore che misura la quantità di questi gas e di regola le GR in funzione della combustione. C'è tutto un controllo attraverso la sensoristica oggi moderni della combustione. La centralina oggi ha come compito principale quello di controllare l'ottimizzazione della combustione. E quello è il suo compito. Quindi attraverso i gas riciclati, attraverso la misura dei gas allo scarico, attraverso la mancanza di ossigeno e la creazione. E come regola la centralina? Attraverso l'anticipo dell'apertura delle valvole se c'è la fasatura variabile, altrimenti attraverso l'anticipo dell'accensione. Non ha altri modi. Nei motori benzina. Ma c'è una certa percentuale di gas di scarico viene dicendo lato. E' chiaro, quelli che diciamo vanno allo scarico, però anche lì c'è le GR e allo stesso tempo li misura e se sono eccessibili regola l'alimentazione perché siano minori. Perché comunque è una dimostrazione che parte dei gas è scappata dall'ombustione e quindi c'è anche una misura dell'eccesso di combustione. C'è l'eccesso di combustibile. È una regolazione teoriamente molto particolare, molto complessa. Allora, vediamo quindi come funziona il sistema di raffreddamento, va bene? Allora, prima vediamolo a livello di immagini, poi si prova a fare alcun video. Comunque, il sistema di raffreddamento è fatto da i condotti, che vi dicevo prima, esterni che garantiscono la circolazione, i fori eseguiti nel monoblocco che garantiscono il raffreddamento del monoblocco, il pistone viene raffreddato, vedremo dopo, il pistone viene raffreddato con oggetti d'olio, perché ovviamente per ovimosivi all'interno del sistema non si può entrare acqua, va bene? Quindi con l'olio di raffreddazione si garantisce anche il raffreddamento sotto del pistone. Il pistone viene umeggettato, in alcuni anni si è proprio dei ceti d'olio che garantiscono il raffreddamento, se no per sbattimento. L'acqua, l'acqua che cosa subisce? Subisce, diciamo, fa questa circolazione, vedete dalle frecce, si parte diciamo dalla pompa e mette in pressione l'acqua, quando diciamo c'è il serbatoio, quindi va bene, che mette in circolazione l'acqua con il termostato, va bene? A cosa serve il termostato? Il termostato serve a chiudere il circuito e fa sì che la circolazione dell'acqua venga al circuito chiuso nella fase, diciamo, di motore freddo, perché l'obiettivo è che il motore raggiunga velocemente la temperatura dei 90 gradi, perché temperatura di 90 gradi risponde alla condizione ottimale del funzionamento del motore, perché come si è detto prima, temperatura bassa penalizza la combustione. Quindi bisogna arrivare velocemente a 90 gradi, quando il motore arriva a 90 gradi, sape la valvola termostatica e mette in circolazione l'acqua con l'impianto di raffreddamento ausiliario che è il radiatore. Se la temperatura continua a aumentare, c'è un ulteriore sensore qui nel radiatore, quando la temperatura raggiunge i 90 gradi, fa partire la ventola di raffreddamento, un ulteriore ausilio di raffreddamento. Chiaramente il radiatore messo nella parte anteriore, proprio per garantire una convenzione naturale di raffreddamento. Il radiatore è un sistema di scambio aria-acqua. Va bene? Ok. Allora, l'intercure può essere messo o proprio davanti, dietro al radiatore tradizionale, perché anche lui catturi l'aria, oppure può essere messo in posizioni più particolari, magari molte volte in alcune macchine si trova proprio un radiatore unico diviso a 7, quello dell'aria, cioè quello dell'aria, quello dell'olio e quello dell'acqua, perché in alcune macchine c'è anche il radiatore dell'olio. Chiaro? Ok? Lo spiegavano ora. Un tuccero d'ora, un secondo patucceri. È che non state attenti. Quando vuole l'interrogazione, queste cose le vogliono sapere. Io vedo molta distrazione in alcune cose. Dopo 40 minuti si è bella e corti. Però... c'è ancora, cioè non so se c'è anche una macchina, comunque nella moto c'è un bulbo lì vicino sottolineo. È il termostato? Eh sì, che dice... Che legge e apre il circuito in base alle ondizioni funzionavano. Ci ho fatto un ponte perché mi si è avuta la centralina. No, lì c'è una centralina. Quello è un sistema di controllo fisico della temperatura, lì non è un problema centralina. Lì fisicamente, quando raggiunge la temperatura, te lo apre il circuito, la vita è meccanico. C'è come un sistema... Oppure può essere elettromeccanico. Qui la sbagliurà. Ho fatto il ponte perché a partì il termostato mi si era avuto. Il sistema è messo un buon po' di canale e... Eccolo qua. Questo è il sistema di rafforzamento, va bene. Comincia diciamo in modo da funzionare, l'acqua circola nei condotti. Quando la temperatura sale, va bene, apre il termostato, vedete, diventa rossa. Apre il termostato, aumenta circa il radiatore. Diventa rosso anche il radiatore, piano piano. Se diventa rosso fa partire la ventola e raffredda anche la ventola. Da qui appunto sa la massima facilità di raffreddamento di motore. Non solo, tutta questa acqua arriva anche nell'abitavolo e attraverso il sistema di ventilazione scalda anche l'abitavolo, va bene. Quindi parte dell'acqua di raffreddamento, riscaldata, va nel radiatore dell'abitavolo, che ha il compito di riscaldare anche l'abitavolo, va bene. Ok. E qui c'è la ventola di regolazione, va bene. La pompa dell'acqua è messa in questa posizione, va bene. L'energia meccana, la pompa dell'acqua per generare energia di pressione della DA, l'albero motore. Allora, bene. Impianto di lubrificazione. Ah, scusate, questo è il sistema d'aria, il sistema d'aria, molte volte il sistema d'aria dove soprattutto il motore è ubicato in una zona dove l'aria dall'esterno non arriva, c'è proprio una ventola che genera una prevalenza, una portata d'aria forzata all'interno del motore per raffreddare, va bene. Questo era tipico della vecchia 500. Allora, ovviamente ventola anche lei regolata a stavolta dall'albero motore, va bene. Ragazzi, e c'è gente che non tenete a chiacchierare, è un video nulla, ma sto anche registrando. Non è che vi dite una parola e smettete, continuate in perteriti. Allora, vediamo ora l'impianto di lubrificazione. L'impianto di lubrificazione a cosa serve? L'impianto di lubrificazione serve a garantire che le parti metalliche fra di loro non vengono in contatto, perché ovviamente, prima cosa per un discorso d'attrito, il secondo per un discorso d'usura, parti metalliche che vengono in contatto fra di loro avendo una basso valore di viscosità, finiscono per usurarsi. Quindi, devo sempre garantire la lubrificazione. La lubrificazione più gravosa è nelle parti, diciamo, soggette ad elevate pressioni, come tutte le parti legate alla biella e all'albero motore, quindi tutti i uccinetti dell'albero motore, e l'albero a cambio in alto, che ha, diciamo, una condizione sfavorita da un punto di vista di posizione. Essendo in alto, l'olio tende a calare, quindi a rimanere meno, a essere meno catturato. L'impianto di lubrificazione è fatto come quello, diciamo, dell'acqua, ed è qui riportato da un sistema d'accumulo, che è la coppa dell'olio, chiaro? Dove è ubicata anche la pompa ad ingranaggi dell'olio, pompa ad ingranaggi dell'olio che prende movimento sempre dall'albero motore, chiaro? Che quindi genera un aumento di pressione dell'olio e lo manda nella parte più angusta, cioè la parte più alta. Perché devi raccattare l'olio e viene dall'albero. Come fate l'olio operario? Ho capito, però c'è il vantaggio. Però garantisce la possibilità di tutta la parte bassa del motore, per sbattimento, che è la parte più critica. Ci sono delle hoppe, dei sistemi di griglia che la proteggono voglia, nelle macchine più soggette al rischio. È chiaro, una macchina non nasce da fuori strada, le macchine che nascono fuori strada hanno una hoppa più in alto e protetta. C'è una protezione ulteriore, però è chiaro che l'oppa in olio sta in basso perché garantisce tutta la lubrificazione della parte bassa. La parte bassa è lubrificata prevalentemente per sbattimento, cioè lo stesso albero motore girando sbatte l'olio nei sistemi, va bene? La parte più difficile, cioè il movimento dell'albero motore muove l'olio, lo mette in pressione e quindi lo tira un po' all'interno. Cioè queste goccioline tu vedi molte volte o sono veramente spruzzate un decente d'olio o è proprio l'albero motore stesso e girando si porta l'olio addosso, va bene? Ovviamente l'olio non deve mai superare certe altezze perché se no la sovrappressione si genera nella movimentazione è eccessiva e crea la sovrappressione. Sì, è vero, non è giusto mettere l'olio superiore al massimo, già sempre perché se lo metto superiore al massimo c'è il rischio di creare una sovrappressione all'interno dell'impianto di lubrificazione. Allora, poi abbiamo la parte alta appunto dove l'olio ci arriva attraverso la pompa ad ingranaggi, così come gli eventuali cetti molte volte possono essere facilitati dalla presenza appunto della pompa, va bene? Fatto questo abbiamo il filtro dell'olio, quindi l'olio subisce un'opera di filtrazione perché ovviamente nel proteggere le parti, parti del materiale si può produrre, quindi parte direttiva, metallo-metallo, l'olio ha anche il compito di lavare, di pulire e ovviamente il deposito solido che si forma nel prodotto di rettifica deve essere filtrato perché se rimane in circolo finisce per fare un processo di rettifica vero e proprio, cioè l'olio è la presenza di metallo che rimane tra i cilindri e il pistone quando si muove fa l'opposto, crea proprio l'usura, chiaro? Ecco perché è molto importante quando si abbia l'olio, cambiare anche il filtro, molti gli abbiano l'olio, cambiare anche il filtro, è un modo di dire come farsi la doccia e rimettersi la roba vecchia, ok? E vanno già usati, quindi qual è il problema? Quindi abbiamo poi un bulbo che misura la pressione, quando voi in cabina vi si accende la spia dell'olio non vuol dire che manca l'olio ma vuol dire che manca la pressione, ok? E quindi mancando la pressione c'è il rischio che alcune parti di quelle più in alto possano avere una carenza di lubrificazione con conseguente usura precoce, va bene? L'avviamento, allora due aspetti c'è da dire, olio naturale o sintetico? Il sintetico, perché? Perché il sintetico è una base sintetica che garantisce una sorta di legame chimio tra le parti metalli e l'olio, che garantisce una forza di aggrappaggio maggiore e non dell'olio minerale. L'olio minerale ha due problemi, perde viscosità notevolmente alla temperatura, quindi via via si scalda, l'olio diventa tipo acqua, quindi scivola nelle parti, non rimane intrappolato, non garantendo, siccome spesso i cilindri si trovano in una posizione verticale, quindi c'è una porta di gravità che porta via l'olio, se l'olio non si crea una forte antagonista, tipo un legame chimio e la grappa alle parti metalli, scivola via anche su tutti gli sbattimenti del pistone e non garantisce lubrificazione. La parte sintetica è questa capacità, mantiene la viscosità ad alto numero, anche ad alta temperatura, si grappa alle pareti e garantisce una migliore lubrificazione rispetto all'olio minerale tradizionale, proprio perché c'è una componente chimia che garantisce questo. no, no, non sono tutti i sintetici, tu pigli l'olio da 5 euro e minerale. altra cosa importante dell'olio è la viscosità, il famoso SAE, va bene? SAE 40, SAE 20, allora oggi sono degli oli universali, vanno bene d'estate e d'inverno, però solitamente d'inverno sarebbe meglio mettere un olio più liquido e d'estate più denso, perché ovviamente la temperatura dell'ambiente facilita la perdita di viscosità dell'olio. Chiaro? Ma è il composto? L'olio più denso d'inverno, d'estate, perché la temperatura se lo rende più viscoso. L'eccessiva viscosità, la viscosità è un elemento che favorisce l'aggrappaggio alle pareti. va bene? Ma ci sono quegli oli super fast per migliori apprezzazioni del buon lavoro? Sì, perché garantiscono una minore viscosità e garantiscono allo stesso tempo la valorizzazione. Però è chiaro che generano un maggior attriso perché comunque l'olio, se non è sufficientemente viscoso e tipo il grasso, crea anche una parte di resistenza allo scorimento. Lo stesso albromosore si trova a sbattere nell'olio, se l'olio è più viscoso ha una terza di prestazioni e di energia meccanica maggiore. L'altro cosa importante è quando si avvia una macchina, si parlava l'altro giorno con il vostro collega, chiaramente è un elemento critico, perché in quel momento l'olio è carente, soprattutto in alto, quindi le parti metalliche sono a contatto fra di loro. Quindi quando si avvia una macchina, primo, non accelerare, perché è una condizione critica, si accelera, si aumenta le forze in gioco, si aumenta il danneggiamento. Due, aspettare che la macchina si scaldi soprattutto a motori diesel dove questo effetto è più forte perché gli effetti di detonazione finiscono per creare sollecitazioni più caotiche all'interno del motore, quindi meno uniformi, meno progressive, più impulsi, più forze, è consigliabile aspettare qualche minuto prima di mettersi in marcia e quindi andare a creare sollecitazioni maggiore ai motori, perché chiaramente in esercizio il motore si sollecina di più. Chiaro? Tutto chiaro. Allora, l'affreddamento l'abbiamo fatto, l'ubriazione l'abbiamo fatta, ci rimane da vedere gli componenti principali che costituiscono il motore e questo argomento lo possiamo congelare. Allora, gli elementi principali che costituiscono il motore sono, partendo dall'alto, partendo dall'alto, la parte in alto ovviamente è la testa del motore, testa del motore che è la parte in alto che è costituita da cosa? Da le sedi per le valvole, no la testa no, la testa è fatta, da la sede, le sedi per le valvole, le sedi eventualmente per la candela dove c'è l'accensione, le sedi per gli iniettori dove c'è l'iniettori in testa o comunque i motori di liceo. Poi abbiamo, oltre la testa abbiamo il monoblocco, il monoblocco è la parte in basso dove è riavato i cilindri, sempre nel monoblocco come abbiamo visto è riavato l'eventuale alette di raffreddamento, perché ovviamente comunque il monoblocco deve essere raffreddato, nel monoblocco è riavato anche i fori di raffreddamento che abbiamo visto hanno il compito di garantire raffreddamento del monoblocco. Tra il monoblocco e la testa è presente la guarnizione, guarnizione che garantisce la fenosa stagna nel passaggio dell'acqua. Nella parte alta abbiamo la coppa, abbiamo il coperchio delle punterie, perché ovviamente tutto il sistema di distribuzione deve essere comunque coperto perché c'è olio che circola, quindi abbiamo il coperchio delle punterie in avanti. Il coperchio è il coperchio in parte alta che copre il sistema di distribuzione. Va bene? Prima fu le parti fisse, poi fu le parti mobili. Nelle parti fisse c'è poi la parte bassa che è la parte bassa del monoblocco che costituisce la coppa dell'olio. Chiaro? E quindi il sistema di completamento o del cilindro del monoblocco. Sempre nella parte bassa è presente le sedi dove sono collocati gli uscinetti. In questo caso radenti. Va bene? Famose bronzine di banco. Bene. Poi sempre riguardo al motore abbiamo nella parte alta la distribuzione. Motori quattro tempi. Motori due tempi non ce l'abbiamo. Motori quattro tempi abbiamo, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora è comune a tutti. Velocemente nei due tempi abbiamo semplicemente qui nei cilindri dei fori che sono le famose luci che sono luci di aspirazione e luci di scarico. Nel quattro tempi invece abbiamo il sistema di distribuzione che è fatto ad abbera e cam in testa chiamarla su, con l'eventuale eccentrici, le valvole che garantiscono il sistema di aspirazione e scarico. valvole di aspirazione e valvole di scarico. Molte volte le valvole di scarico sono più grandi delle valvole di aspirazione. Per ovvi motivi perché il gas caldo occupa maggiore volume a partire da di massa e qui dà bisogno di una sezione maggiore per il passaggio. Bene. Parte il movimento abbiamo albero a camme, sincronizzato opportunamente con un sistema di culeggie dentate o di catene con rose dentate all'albero motore con un opportuno rapporto di trasmissione. Solitamente è uno a due. Nel motore di quattro tempi perché l'albero motore fa due giri, l'albero a camme ne deve fare uno. Va bene? Per servire tutte le valvole. proprio perché appunto c'è la camma che in un giro completa tutte le fasi. Quindi, albero a camme, sistema di valvole o dei registri chiamati idraulici, sono questi qui che vedete per mantenere l'ostante il gioco di albero a camme e la valvola, la molla e la valvola. Poi abbiamo il sistema biella-manovella, questo ormai l'abbiamo visto mille volte, che è fatto. Il sistema pistone, che garantisce in modo alternativo, lo spinotto che collega il pistone alla biella, le fasce elastiche che possono essere di due tipi, le rastie a olio e quelle di tenuta. La rastia a olio ha il compito di ripulire dal cilindro l'olio. Quella di tenuta ha il compito di garantire il mantenimento del rapporto di compressione. Spesso se c'è la doppia fascia, in alto c'è la fascia normale, in basso c'è la rastia a olio. Come in quest'altro ce ne entri, vedete? Sono tutti acciai particolari, che devono avere una certa elasticità e una certa resistenza. Altri elementi presenti, abbiamo ovviamente il sistema biella-manovella, con opportunamente collegato alle bronzine di biella all'albero motore, cosiddetto albero ai gomiti. Il gomito dell'albero motore non è altro la manovella. Chiaro? Il sistema biella-manovella, il gomito dell'albero motore rappresenta la manovella. Ok? Diciamo che poi avremo modo anche di dimensionare a mezzo. Poi abbiamo tutti gli ausiliari. Ah, poi abbiamo sulla parte destra il volano. Il volano che è il compito di accumulare energia e ridistribuirla nelle fasi passive, perché come sappiamo un motore ha una fase attiva e tre fasi passive, ha il compito di accumulare parte dell'energia nelle fasi attive, assorbendola alla trasmissione e ridandola nelle fasi passive, attraverso il accumulo di energia per forze di inerzia. L'oltre di accensione solitamente viene dato onde garantire una distribuzione delle sollecitazioni sull'albero motore in maniera il più progressive possibile. Ma come? Cioè, come è? Dipende da motori. C'è chi ha 1432, c'è chi ha qualche successione meno comune. La successione dei quattro tempi sezionali è 1, 4, 3, 2. Per creare un bilanciamento esterno e interno delle sollecitazioni perché c'è un problema di forza alterna. Perché uno dei problemi dei motori a combustione, soprattutto se il motore perfetto a livello di vibrazioni è i 6 cilindri. Il quattro cilindri ha il problema di vibrazione e funzionamento. E quindi ci sono dei motori che hanno creato dei contralbi di bilanciamento e creano delle forze alterne opposte che creano risultante nulla. Quindi un sistema di rotazione che ruota all'incontrario e quindi crea delle forze opposte a quelle che si generano in fase di rotazione. Perché chiaramente le forze alterne cosa fanno? Fanno sì che queste masse si muovono all'interno del motore essendo in una fase non di regime ma di ottima accelerazione. F uguale MA generano forze chiamate alterne. E quindi creano queste forze delle vibrazioni. Va bene? Perché noi comunque abbiamo massa come il pistone stesso che si muove e genera una forza per essere accelerata. Questa forza si smette all'albero e trasmette vibrazioni. Il motore è ottimale 6 cilindri perché avendo 6 cilindri riesce a far sì che ci sono degli angoli opportuni per cui queste forze in qualsiasi condizione si annullano. E quindi invece quello qual è? Non me lo ricordo. Mi sembra sia uno, sei, quattro, cinque, tre, due, uno. Mi sembra, però ho memoria. Perché i tempi che lavoravo me lo ricordavo con il gestionario. Ora... Eh? I 6 cilindri non abbi... Le forze alterne sono sia quelle di primo ordine e di secondo ordine sono ovviamente loro. Il volano non solo per mettere una coppia da potere. Sì, sì. Non per creare un moto, diciamo... Allora, il volano ha un altro complice. La prima bella è di elevare le vibrazioni. Ancora curare l'energia. Nel 6 cilindri, volendo, il volano può essere molto piccolo. Esatto, sì. L'evento. Non togge l'energia. Bene. Poi abbiamo visto il... Se mi sono dimenticato qualcosa, poi insomma... Questo mi sembra già capiente rispetto all'esigenza. Va bene? Sì. Sì. Sì.